ecco, perfetto, molto bene, vamos a ver che tal come stai? me considero una feminista, però non una feminazis, come dicono, come chiamano a alcuni feministas estrellano controlliamo solo uno, bene oggi vengo a relajarti con i suzzurros e con questo incredibile audio, che spero ti guste, come sempre però soprattutto ti relajo e ti faccio dormire a mi me encanta questo nuovo attipo le compre attenzione che dice ojitos ogni volta che dico ojitos la gente dice ojitos e no ok vamos a cerrar los ojos asi no se confunde la palabra y vamos a pensar que estoy acariciando tu cabello y que te estoy consentiendo mucho 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 que he venido a consentirte acariciarte hacerte muchos mimos y es que no hay nada mas sabroso que te rasque la cabecita o te la consienta y te acariciando el cabello y te acariciando el cabello suave, suave, suavecito te hagan cositas en el cuore con el cuore con la cabello como si fueras un bebe un bebe un bebe un bebe un bebe un bebe no hay nada mas rigo che sentiamo appassati qui e oggi vieni precisamente a consentirti a farti dormire a farti cosci a acariciare il cabello ciao ciao benvenuto a questo nuovo video di ASMR oggi ho rispondo a le domande che mi hanno fatto in Instagram ora non ho tempo di leggere quindi sto leggendo le domande 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 non mi piace leggere o parlare io amo leggere non ho un tema preferito o un... come si dice in spagnolo? non ho un tema o un genere preferito però seguramente il fantasy è uno di cui mi piace a pesar di che al inicio non mi gustavano i libri di fantasy o i film di fantasy fino a che il signore dei anillo e me volvì fanàtica e questo potrebbe essere un tema di conversazione mia ultima parella, mio ultimo novio mi ha conquistato parlando del señor de los anillos asi que bueno por ejemplo e me encantan temas de actualidad sobretodo soy una gran defensora ya ustedes lo saben de los derechos de los animales es una vida que trato de ser vegetariana no lo he logrado del todo pero pruebo hacerlo y... también... soy... me considero una feminista pero no una feminazis como dicen como llaman a algunas feministas extrema feminismo del punto de vista de la igualdad de género en todo en oportunidades de trabajo en oportunidades de desarrollarse de avanzar en el vestuario sobre todo me da mucho fastidio el hecho de que una mujer venga juzgada en la forma en la que viste eh... ya pienso que lo puede pase, póngase cómodo es el siguiente ok si no se preocupe siéntese por favor a ver me diga cuál es el problema entiendo es una visita rutinaria entonces cree que ya sus lentes de aumento no funcionan bien hace cuánto tiempo los tienen bueno puede ser puede ser el cristal simplemente igualmente vamos a hacer todos los análisis oportunos le sucede cuando tiene la vista cansada por ejemplo el ver colores diferentes mamá nunca ha tenido problema con el daltonismo bueno no se preocupe vamos a controlar si es así o no si no no lo primero que que vamos a controlar es que no no simplemente le voy a poner unas gotitas para dilatar un poquito la pupila para de esa manera tener unos resultados más fieles ok es simplemente una rutina de higiene el ponerse los guantes para colocarle las gotitas en los ojos ok bien listo perfecto ya vamos a hacer varias pruebas no se preocupe a ver sirve un ojo ok ok bien abre el otro bien pica se quema un poquito es normal lo se un poco fastidioso no se preocupe que dentro de poquito le pasa bien vamos a ver como estan los nervios ok simplemente eso avíseme cuando le termine la picazón en los ojos déjeme ver por aca a ver hagamos primero con ok nota la diferencia de colores seguro bien siga mi dedo sigalo 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 exacto ya no lo ven aca lo ven lo ven no no me mueva la cabeza deja la cabeza quieta y mueva solo los ojos ok a ver a mi se me encuentro ya no lo veo sigalo sigalo no lo ve no lo ve aca probemos con el aviso no lo ve no lo ve no lo ve aca probemos con probemos con el aviso abso قط debes ok ap equals en uno dos metas dos persiguilles tal dos nos clame un po' di più che tal il video alla mia maniera? il video alla prossima qui ci sono molte, 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 molte quando si passano la sua vita per il microfono Tic tac 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 Tic tac 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 tic 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 e e e e e e e come stai? oggi voglio farti rilasare farti dormire molto molto bene ma soprattutto sono qui oggi per coccolarti per coccolarti farti tante tante coccole ti invito a chiudere gli occhi e immaginare che passo piano piano con le mie male sulla tua testa e ti aggrezzo i capelli e ti faccio un massaggio tu la senti? non so? 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 piano piano sotto la tua testa senti come passo la mia madre per il tuo viso e io suavemente faccio un pequeno mandato con le chiamas di misteri e il tuo cuore cabello senza mi comico siente come passo misteri suavemente por tu cabello e ti massage al caraballo i shhh silenzio mi persona favorita nel mondo sta durmiendo durmiendo si è delicioso, è stato più alto, è stato più alto, non è vero si ha sentito molti cosiddetti in la spada in la cabeza e in l'occhio non è vero 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 la mia sensazione sta qui per me rendere con sentire la mia sensazione deve essere libera di essere come è e di sentirsi comoda sento come è come gli uomini a gli uomini li puoi vedere desnudati e non dice nulla perché le uomini non? in fin perché sta bene che la mia se quede in casa a creare i uomini e a limpiar la casa e il uomini non? bueno, credo in ese feminismo, in igualità di genero, in igualità di oportunità ese è il feminismo al che io lucho tutti i giorni di vita perché questa domanda mi piace che in questo punto di vista non bebo alcool che non è il fatto se mi irritano facilmente e e che e delante a la telecamera delante al telefono eso empeora mi situazione con respecto a mis ojos secos e se me irrita aun mas qual è tuo maggior anhelo? tengo muchos lo primero que se me viene a la mente es precisamente igualdad de género igualdad para los animales yo pienso que si hay gente que consuma la carne esta bien esta bien consumirla al que le gusta pero pienso que la industria de la ganaderia deberia tratarlos con mayor respeto si ya te dan de comer si ya es tu trabajo hazlo bien con ética e igualdad de género hacia las mujeres esos son mis mayores anhelos y oh por favor no quiero ver mas gatitos ni perros abandonados por la calle es otro de mis anhelos otro de mis anhelos de tener mucho 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 muchos mas suscriptores en youtube también porque siga el amicero siga el amicero siga el amicero lo ve lo ve lo ve lo ve lo ve ya no lo ve ok ahora siga el amicero ahora ya no lo ve siga el amicero lo ve no fuera de campo totalmente ahora siga el amicero lo ve no ahora siga el amicero siga el amicero lo ve lo ve lo ve siga el amicero ya no lo ve siga el amicero lo ve lo ve ya no lo ve ok bien vamos a probar es seguro que le pasa la picazón vamos a probar con con la luz vamos a ver si sus pupilas reaccionan de manera correcta a la luz o que a ver siga la siga la siga la siga igualmente siga la deje la cabeza quieta totalmente parada no mueva el cuello ni la cabeza siga solo con las vistas a ver sigalo sigalo no lave sigalo ahora lave no sigala lave la ve? no ve la ve la ve la ve ok no ok vamos a ver la pupila por favor cerramos aca controlamos o no bien ok ok vamos al otro bien un poco escandinavo si? flash, cierran los ojos ábrelo paso al efecto ok voy a tener a tomar tu campo aca no lo ves no lo ves bien aca tampoco ok voy a acercar a tu campo visivo la luz y tu me vas a avisar cuando lo ves ok buen chico ok 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 la ves? la ves? no? ahora si vamos a hacer este ultimo intento la ves la ves? aca? ok tarda un poco la en ver a veces la luz o no se dime si ves el... ok, de nuevo ok, de nuevo ok lo lograste ver siempre bien bien antes de hacer la prueba del taltonismo vamos a hacerte la prueba de la vista cierra cóbrete con la mano un ojo y deja el otro abierto ojo ves las letras? lee la primera fila bien la penúltima ya cuesta un poquito mas no la ves bien cual es la ultima letra? ok muy bien, ahora cierra el otro ojo siempre con la mano y vamos a hacer lo mismo leeme la primera columna bien leeme la penúltima de cuesta la mano por organs sí parece mol ll Non so, non so, non so. Grazie a tutti. 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 In questo momento. Detto. Mentre ti faccio questo massaggio. Nacqua... e... quindi... oggi... e... 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 perché... ti faccio... ti faccio... e... 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 ... e... 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 ... 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 ok leenmi questa lettera da aca a lo craspera la ultima la esquina derecha ok bien bueno pareciera que no pareciera che abbiamo necessità di aumentare con rispetto al anno pasado talve sia una question di e probabilmente credo che hai problemi di taltonismo principalmente e vedo che alcune volte la pupilla non reacciona come deve la rosa asi che probabilmente facciamo altre pruebas però prima di fare la prova optica voglio fare la prova del taltonismo ok ok che color è? seguro? ok che color è? che color è? bene che color è? che color è? che color è? il mismo del inicio che color è? bene è il mismo color o è differente? lo ves ugual? qual è? qual è più chiaro? questo? questo è più chiaro? questo è più chiaro? però è la misma gama di color lo ves distinto? lo ves? quasi ugual? lo ves un amarillo oscuro entiendo e per ultimo e per ultimo quiero que me digaseste color di nuovo che color è? che color è? verde? segura? come un turquesa tirando mas aperto ok ok bene bene faremo una testa con cada ojo e poi controllare le pupille e vediamo come possiamo si definitivamente sei un poco daltonico non hai passato molto bene la testa però però faremo molte segurezza soprattutto per sapere sì sì perché è per capire se ti ha aumentato la gradazione la falta di vista se ti ha aumentato l'antimatismo o se sono con i cristalli che che ti ha cambiato ok bene bene cominciamo con la prossima prueba come sempre tapate un ojo e controlla controlla exacto se acercate pega tu pega la frente en la prato acá pégala ok vamos con este ojo pégala pégala ok pega también la barbilla acá perfecto muy bene vamos a ver che tal ok ora con il prossimo ojo sempre ante barbilla sì barbilla e frente pégala al apparato de questa manera ok vamos con il prossimo ojo rā trent trent Doll Grazie a tutti 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 e a tutti Grazie 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 a tutti Ciao, ciao Grazie a tutti 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 molto corretto eee po 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 vedo che già ti stai addormentando e senti molto molto sei molto rilevato tutti ci inizi a salutare ti lascio dormire molto bene ma soprattutto tanti sogni d'oro ciao tesorino bello apresto tada